Il cristiano è un uomo, una donna in tensione verso la consolazione che dà l'incontro con Dio, che porta alla redenzione. Chiediamo al Signore la grazia di saper aspettare questa consolazione nella speranza, di riconoscerla quando viene e di conservarla per arrivare ad essere uomini e donne in pace. Lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta, commentando la prima lettura proposta dalla liturgia che narra della visita del Signore per aiutare il suo popolo a tornare a Gerusalemme dall'esilio babilonese. Il cristiano che non è in tensione, che non spera nell'attesa di questa consolazione, ha sottolineato il pontefice, è un cristiano chiuso, messo nel magazzino della vita. La consolazione del Signore tocca dentro e ti muove, ti dà un aumento di carità, di fede, di speranza e anche ti porta a piangere per i propri peccati e anche quando guardiamo Gesù, la passione di Gesù, piangere con Gesù. Anche ti eleva l'anima alle cose del cielo, alle cose di Dio e anche quieta l'anima nella pace del Signore. Questa è la vera consolazione. Non è un divertimento, non è un divertimento, non è una cosa cattiva quando buono. Siamo umani, dobbiamo averne. Ma la consolazione ti prende e proprio la presenza di Dio si sente. e riconoscere. Questo è il Signore.